Rotaract e Avis insieme per una giornata dedicata alle donazioni che si è svolta presso il centro trasfusionale dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Fai un gesto di cuore, dona anche tu il titolo scelto per la giornata. Oggi abbiamo voluto fare la donazione del sangue presso il sit dell'ospedale perché i ragazzi del Rotary, Rotary giovane, hanno voluto donare. E quindi noi abbiamo aderito a questa donazione e siamo felicissimi perché sono venuti in flotta proprio tantissimi e poi hanno donato la colazione per tutti. Ci sono quelli che non donano e quelli che donano e oggi è stata un'idonità per loro però ci hanno promesso che verranno anche a donare, a fare la donazione effettiva. E questo ci riempie di gioia, di orgoglio che i giovani aderiscono a queste iniziative. Un appuntamento rientrato nel service del distretto Rotaract 2090, troviamoli tutti, volto a informare sugli effetti di una malattia ereditaria. Obiettivo anche sensibilizzare sempre più i giovani alla donazione del sangue.